Resiste bene per mezz'ora la Sante che con coraggio e manovra riesce ad imbrigliare un'aquila che fatica ad adattarsi ma che una volta trovato il gol confeziona un gran raddoppio e gestisce agevolmente la ripresa. Con gli highlights di Manuel Centurame rivediamo il film del match. Al decimo cross dalla destra uscita tempestiva di Mascolo che anticipa di Eleuterio. Ancora Santa al diciannovesimo Caparbio Gentile che non c'entra lo specchio ma prova il sinistro dalla distanza. Leziosità eccessiva di Mariani. Gibellieri che permette il recupero della retroguardia rosso-blu e spegnere l'opportunità giallorossa. La Sante cerca di presiedere la metà campo avversaria e l'aquila usa mestiere. Al trentaquattresimo break fulminante di San Rizzo che va via sulla sinistra approfitta della disattenzione della difesa di casa. Palla dentro tentativo di liberare la sfera di Silvestri che comunque si insacca in rete. 0-1. Sante disorientata e rosso-blu che giocano meglio e meno contratti. Lungo recupero di sei minuti concessi da Lorenzo Spinelli al termine del quale l'aquila mette in scena un'azione da manuale. Tavoni corticchia sponde di sciba e destro di Massetti. Implacabile. 0-2. E tutti a bere un tè caldo. La Sante cambia tre uomini. Dedeo, il portiere Gagliardi e Di Eleuterio per Venditti, Culibali e Mucci. Mentre Gentile viene spostato al vertice dell'attacco in veste di falso 9. Undicesimo l'aquila in spolvero con San Rizzo che costringe all'aiuto della smanacciata da terra il neo entrato Venditti. Ancora l'aquila al diciannovesimo. Accelera San Rizzo. Palla per Massetti sulla linea di fondo che però non impatta adeguatamente. Nonostante i cambi, la Sante non riesce a trovare lo spunto per spaventare Mascolo. Epifani manda in campo Alessandro e Santi Rocco che trova il terzo gol in chiusura di recupero. Palla a lui che effettua un primo tiro. Rimpallo sul posto, riprende ed insacca il 3-0 definitivo. Hai ragione, è stata una buona partita. Fino a un certo punto, no. Nel senso che purtroppo gli episodi nel calcio fanno un po' la differenza. Fino al primo gol effettivamente la squadra aveva retto bene il campo. Sotto l'aspetto tattico era abbastanza compatta. Ma sapevo che della forza dell'aquila avevamo preparato la partita in un determinato modo. Purtroppo l'episodio del primo gol, tra virgolette, ci ha un po' condizionato. Comunque credo che la squadra abbia dato il massimo. La sconfitta, diciamo, il terzo gol, lascio il tempo che trova. Il terzo gol però devo fare i complimenti all'aquila che è un'ottima squadra. Giocatori di spessore. Però nello stesso tempo non possono improverare niente alla squadra. Sicuramente qualcosa dobbiamo migliorare. Non è facile entrare in corsa. Sicuramente la squadra sta rispondendo. Oggi per noi la partita era, sotto l'aspetto per il nostro cammino, una partita un po' particolare. Non è questa le partite dove dobbiamo trarre punti. Però la prestazione è importante. Il risultato, dal mio punto di vista, è bugiardo, perché è abbastanza pesante. Perché dopo credo che i primi due gol sono venuti fuori su due episodi. Noi forse meritavamo qualcosa in più, però il calcio è questo. Va bene così. La prestazione di Koulibaly? È un giocatore che ha abbastanza esperienza. Quando è entrato sicuramente ha dato il suo contributo. Si è visto subito. Noi purtroppo venivamo in un momento un po' particolare. Abbiamo avuto qualche defezione in settimana, soprattutto con i ragazzi in fuori quota. Sai benissimo che questo campionato è abbastanza condizionato dai ragazzi. A volte fare dei cambi ci costringe magari a fare delle sostituzioni che non vorremmo. Però il calcio è questo. Siamo preparati, andiamo avanti. Sono convinto che siamo sulla buona strada. Allora mister, avete impiegato mezz'ora, ha resistito la santa per una mezzoletta. Dopodiché avete trovato il primo gol, avete anche cominciato a giocare in maniera molto più rilassata. Nella ripresa avete abbassato i ritmi, gestito e il terzo gol è venuto anche per via di una serie di cambi che vi dà una forza straordinaria fino alla fine. Sì, allora all'inizio secondo me ci dovevamo adattare al campo, che è una cosa importante perché non siamo abituati. Poi avevamo di fronte una santa egilese che sicuramente non è quella dell'andata e quindi una squadra migliore. Però piano piano, piano piano ci siamo sciolti, abbiamo fatto gol, poi abbiamo fatto un grandissimo secondo gol e poi la partita al secondo tempo l'abbiamo amministrata molto bene. Abbiamo cercato anche di cambiare perché anche per cercare di iniziare a pensare anche a mercoledì. Però credo che oggi sia una vittoria molto molto importante, molto per la testa perché venire a vincere qui in questo modo è un segnale molto importante. Per la testa ma anche per la classifica, vista la battuta e il resto del Giulianova ed anche vista la partita di mercoledì a finale. Mette nella condizione ideale, diciamo. Sì, sì, ma per quanto riguarda la classifica sicuramente ti dà forza, però noi dobbiamo continuare a pensare a partita dopo partita, non dobbiamo guardare assolutamente in questo momento la classifica, dobbiamo cercare di vincere più partite da quella fine. Vincere in questo modo sicuramente ti dà slancio anche per la partita di mercoledì, che è una partita importante. Venivamo da una grande partita in casa, oggi abbiamo vinto, ripeto, contro una squadra che è completamente diversa proprio come sotto tutti i punti di vista dell'andata, quindi ha ancora più valore e dà valore anche perché il giro di ritorno, l'ho sempre detto, è difficile. Quindi una squadra come la Sant'Egiriese ne troveremo tante che si sono migliorate e sicuramente daranno filo a torcia a tutti.